pochi spazi per esibirsi e tante compagnie talvolta nemmeno professionistiche che si contendono i palchi del barese per rimanere a galla è un quadro del teatro locale tutt'altro che rassicurante quello dipinto dall'attore e autore nico salatino da sempre testimone della tradizione culturale del capoluogo la cronica carenza di strutture a disposizione delle compagnie e resta per l'attore barese la prima delle criticità da affrontare di questi tempi davvero dura cioè teatro oramai siamo tu sai che in puglia le sale sono contate quindi lavora solo chi fortunatamente riesce ad avere la struttura ma chi comunque la struttura lavora da solo è logico che non è che invita gli altri quindi se non fosse per l'abeliano il teatro barium qualche volta mi invita teatro barium abbelliano e e altri giriamo per trovare sempre posti una possibile soluzione potrebbe essere quella di utilizzare spazi alternativi al classico teatro cercando per esempio nelle strutture pubbliche o di prestigio cerchiamo sempre di inventarci gli spazi come saloni dei castelli come ville grandi ville dove si cerca di fare gli spettacoli proprio spettacoli in villa spettacoli in castello spettacolo nei saloni addirittura delle abitazioni dove c'è un salone bello qualcuno ha tentato di far pur teatro nonostante la carenza di spazi a disposizione nico salatino si conferma artista di grande dinamismo tanto da essere in scena in questi giorni con uno spettacolo classico il morfeo ed euridice due commedie comiche la locanda dei desideri e l'ipano e la farsa classica in vernacolo io in questo momento sto portando fuori orfeo ed euridice per quanto riguarda il teatro classico con qualche rivisitazione per renderlo un po più leggero il secondo tempo è già in un'atmosfera diversa da quella del che è del mito di orfeo ed euridice però molto bello da vedere devo dire molto spettacolare poi sto portando invece qualcosa di comico che si chiama la locanda dei desideri che invece è uno spettacolo comico e la locanda dei desideri e l'ipano sono degli spettacoli comici e poi ho la farsa classica nostra dei baresi e della puglia non è per le solde, io per le tris grazie a tutti